Un giorno come tanti, Kea Robinson si trovava a casa di una sua amica. Ad un certo punto si è recata in giardino per dare un'occhiata ai fiori. E proprio in quel momento qualcosa è successo che ha cambiato per sempre la sua intera esistenza. Questa storia però, a differenza di tante che ho raccontato su questo canale, avrà un lieto fine. Infatti, Kea è riuscita a scappare dalle grinfie di un individuo davvero spregevole. Kea Robinson è nata nel 1987 nel Sud Carolina. Il Sud Carolina, per chi non lo sapesse, è considerata un'area piuttosto pacifica comunque molto spesso. Molti telefilm sono stati realizzati in queste zone perché di solito ai teenager viene data grande libertà appunto perché è un posto piuttosto safe. La gente non ha paura che comunque possa succedere qualcosa, come il caso che vi ando a descrivere. Però ecco, questo caso è assolutamente la dimostrazione che fidarsi è bene, ma non fidarsi è certo meglio. E capirete ben presto perché. Il 23 di giugno del 2002, la quindicenne Cara ha deciso di passare il weekend assieme alla sua migliore amica, Heather. Quel giorno finalmente arrivò. Quello che avevano scelto di fare era prendersi la giornata con calma e andare magari al lago. Tuttavia, al lago, quelle due ragazze, quel giorno, non ci sono mai arrivate. Mentre stavano preparando i bagagli, Heather ha telefonato alla madre chiedendole se c'era qualcosa che avrebbe dovuto fare prima di andarsene, dal momento che quel weekend sarebbero state fuori città. L'unica cosa che la madre ha chiesto è stato di dare acqua alle piante. Assolutamente una cosa semplicissima da fare. Tuttavia, il dare acqua a quelle piante si è rivelato un terribile errore. Heather sarebbe andata a farsi una doccia e nel mentre Cara ha dato la sua disponibilità per dare acqua alle piante. Cara indossava solamente il pigiama, visto che sarebbe uscita veramente per pochi minuti per sboggere quella mansione. Tuttavia, nel mentre stava facendo quell'azione, una macchina si è avvicinata alla casa. Un uomo è sceso da quell'auto, tenendo in mano una serie di giornali e ha approcciato Cara. L'uomo ha detto di avere questi giornali e che voleva darli ai suoi genitori e ha chiesto quindi a Cara se i suoi genitori fossero in casa. Cara ha subito ribattuto dicendo che quella non era la sua casa, ma era solamente un'amica della ragazza che viveva lì. Sembrava molto interessato nello scoprire se c'erano dei genitori in quella casa. Cara ovviamente non ha sospettato nulla, finché non è stato purtroppo, troppo tardi. L'uomo, dopo aver avuto queste informazioni, ha lasciato i giornali a Cara, dicendo che avrebbe potuto darli ai genitori di Heather una volta che sarebbero tornati a casa. Nel mentre che si è avvicinato alla ragazza, ha estratto un'arma che ha poi utilizzato per convincere la ragazza a seguirla nella vettura. La ragazza non aveva alcuna scelta in quella situazione e quindi è stata costretta a seguirlo. Cara non è stata però messa sul sedile, ma è stata costretta a entrare in una specie di gabbia che poi l'uomo ha chiuso. Cara ha cercato in tutti i modi di riuscire a cogliere tutti gli indizi. Voleva assolutamente riuscire ad identificare il luogo dove quest'uomo la stava portando. Dal momento che comunque viveva in quell'area, quindi c'era la possibilità che magari riuscisse a riconoscere determinati luoghi o case. L'uomo ha continuato a guidare per circa 10-15 minuti. Senza farsi notare, l'uomo ha portato all'interno della sua casa questa gabbia con all'interno la povera Cara. Una volta dentro la sua dimora, finalmente Cara ha potuto uscire da quella gabbia. E quando è uscita, quello che ha visto l'ha lasciata completamente scioccata perché lei si sarebbe aspettato magari chissà in che casa sarebbe finita. Ma l'appartamento dell'uomo era sostanzialmente perfettamente normale. Ad esempio, sul frigo c'erano una serie di appuntamenti che l'uomo avrebbe dovuto attendere. Quindi, molto probabilmente, si trattava di un semplice uomo comune che stava svolgendo la sua vita normale. E, da quello che era riuscita a capire, sembrava che ci fosse anche una donna nella vita di quell'uomo. Una moglie, molto probabilmente. Scoprirà poi in seguito che questa moglie era fuori città per quel weekend. Cara non si è data per vinta e era sicura che sarebbe riuscita a scappare da quella casa nel momento in cui ne avrebbe avuto l'opportunità. Cara ha cercato di essere gentile con quest'uomo, cercando di riuscire ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili. Questo, devo dire, che è stata una mossa estremamente intelligente da parte di Cara. Io non so quanti di voi, io compreso, sarebbero riusciti a tenere il sangue così freddo in una situazione così paradossale come questa. La conversazione con Cara è andata avanti per un bel po' e sembravano quasi dei vecchi amici. Cara ha avuto un comportamento assolutamente eccezionale nel riuscire a collezionare tutte queste informazioni. Infatti, si è riuscita a far dire dall'uomo che precedentemente era nei militari, che poi però è stato licenziato. Tuttavia, Cara non era l'unica che ha fatto una serie di domande all'uomo. Infatti, anche l'uomo aveva una serie di domande per Cara e segnava tutte le risposte su un quaderno. In particolare, aveva degli interessi nel scoprire quali erano state le esperienze che aveva avuto con magari degli altri uomini fino a quel momento. La ragazza non aveva mai avuto nessuna di queste esperienze. Tuttavia, quella sera, il suo destino è cambiato proprio per mano di quell'uomo che l'ha rapita. Tuttavia, Cara, anche in questa situazione, era assolutamente determinata a scappare e a tornare alla sua vita di tutti i giorni. E quindi, tutto quello che ha fatto è stato pianificare una via di fuga. In un'intervista, Cara racconta anche che, assieme all'uomo, hanno guardato la televisione. E questo individuo ha chiesto a lei, controlliamo in televisione se magari al telegiornale parlano di te? Ovviamente, ancora non c'erano notizie a riguardo di questa scomparsa dal momento che Cara era scomparsa solamente sette ore prima, nel momento in cui stavano guardando la televisione. Ma anche solamente il fatto che quest'uomo abbia avuto questo pensiero così assurdo, mi fa assolutamente gelare il sangue. L'uomo ha detto alla ragazza, come puoi vedere, non manca assolutamente a nessuno. So che questo può sembrare una cosa assurda, ma in realtà questo è un comportamento che hanno molti rapitori. Infatti, cercano di mettere queste pulci nelle orecchie di queste persone che poi vanno a rapire per riuscire a portarli magari dalla loro parte o farli capire come la loro vita sarebbe migliore se rimanessero all'interno di quella casa. È una specie di tentativo di lavare il cervello. Tuttavia, queste tattiche, come potete immaginare, non hanno funzionato con Cara, che era ben più furba di questo uomo. Quella sera, tra l'altro, l'uomo l'ha legata al letto e poi si è coricato a fianco a lei, dopo aver fatto quelle azioni così orribili durante il pomeriggio. Cara è riuscita a dormire per qualche ora, ma si è svegliata prima che sorgesse il sole la mattina successiva. E questo era veramente il momento per muoversi. Cara sapeva che quello era proprio un'occasione d'oro, il momento in cui quell'uomo stava dormendo, per poter riuscire a sfuggire. Cara è riuscita con i denti a strappare quelle bende che la legavano al letto e pian piano è riuscita a liberarsi. Silenziosamente è uscita dalla stanza. Una volta che si è trovata davanti all'ingresso, ha notato che la porta era una porta metallica e quindi, se avesse voluto avere una qualsiasi possibilità di fuga, avrebbe dovuto correre, perché nel momento in cui quella porta si fosse chiusa, avrebbe fatto rumore e probabilmente avrebbe finito per svegliare l'uomo. Ha quindi aperto la porta dell'ingresso con tutta la forza che aveva e ha iniziato a correre senza sosta. Sapeva che avrebbe dovuto essere lontana il più possibile da quella casa prima che quella porta si fosse chiusa. Fortunatamente ha trovato una vettura con due uomini a bordo che l'hanno subito aiutata e l'hanno condotta direttamente alla polizia. Una volta arrivata in caserma, la ragazza era finalmente pronta a parlare. Finalmente era in un posto sicuro. Tuttavia, la cosa più assurda è che sembrava che i poliziotti non volessero credere alla ragazza. Ci sono stati più e più commissari che hanno ascoltato la storia di questa ragazza e pian piano hanno dovuto prendere in considerazione l'ipotesi che forse Cara non stesse mentendo e che quello che le era successo era veramente quello che le era accaduto. Hanno quindi telefonato alla madre di Cara e sono riusciti quindi a scoprire che realmente Cara era scomparsa per 24 ore. La polizia ha presto riportato Cara su quella strada dove lei era stata ritrovata, ma non è stata in grado di identificare la casa dell'uomo che appunto l'aveva rapita qualche ora prima. Molto probabilmente era così traumatizzata da quell'evento che ha corso così forte che non ha nemmeno guardato indietro una volta per riuscire a capire dove si trovasse in quel momento. È stata quindi portata all'ospedale, ma anche in quell'occasione non ha smesso di cercare una risposta e cercare di identificare l'uomo che le aveva fatto tutto questo. La ragazza però, come vi avevo detto, in tutta questa sua permanenza in quella casa aveva collezionato una serie di indizi che sono stati poi utili per riuscire ad identificare l'uomo che finora non abbiamo mai nominato questa persona. Si chiamava Richard. Gli indizi erano appunto il numero di posta, alcuni elementi che aveva all'interno della casa e soprattutto una donna nel quale lui era il ritratto in una foto che aveva i capelli rossi. La polizia è stata quindi in grado di identificare il complesso dove si trovava l'appartamento di questo uomo. Hanno subito parlato con il manager e poi sono finalmente andati a bussare alla porta appunto di Richard. All'interno della casa Richard non si è fatto trovare. Tuttavia sono riusciti ad identificare tutti gli elementi e indizi di cui aveva parlato Cara e quindi questo era abbastanza per mandare un mandato d'arresto. Hanno anche trovato un armadietto chiuso con un locchetto. All'interno hanno trovato qualcosa di veramente terribile che hanno fatto capire l'orrore di tutto ciò che questo Richard si era macchiato finora. Nel 1997 questo uomo ha fatto fuori due sorelle, Christine e Catherine. Tra l'altro all'interno di quell'armadietto sono stati trovati una serie di quotidiani contenenti quella notizia. La polizia ha subito condiviso queste informazioni con l'FBI e un mandato proprio a livello nazionale è stato emesso per poter ritrovare questo Richard. La prima cosa che la polizia ha fatto è stato contattare la moglie di questo Richard, sua sorella e la madre. Nessuna di loro aveva assolutamente idea di che cosa questo uomo fosse in grado di fare e ne sono rimaste completamente scioccate. Immaginatevi scoprire che qualcuno che pensavate di conoscere così bene si è rivelato essere un individuo del genere. Deve essere assolutamente una di quelle notizie da cui sarà difficile riprendersi. La sorella di Richard ha quindi rivelato alla polizia di sapere dove si trovasse il fratello e ha quindi comunicato loro la sua posizione. La polizia è quindi riuscita a risalire all'uomo in un motel in Florida. Tuttavia una volta che la polizia si è recata in quell'hotel e ha bussato alla stanza dove si trovava l'uomo si era nuovamente spostato. Grazie ai tabulati telefonici sono riusciti a risalire alla sua vettura. Quando finalmente si sono trovati faccia a faccia con Ivanes non era disposto a farsi catturare e ha quindi scelto di togliersi la vita. E questo più o meno è la fine che ha fatto questo serial. Tuttavia questo secondo Ivanes è stata una facile via di uscita e secondo lei avrebbe dovuto pagare molto più severamente per le cose di cui si è macchiato. La cosa più sconcertante è che la polizia tralasciando il fatto di Cara e di queste due sorelle non aveva assolutamente idea di che cosa altro avesse commesso questo uomo e da varie indagini si è scoperto che oltre a queste tre persone aveva anche coinvolto un'altra ragazza di nome Silvia il cui DNA è stato trovato all'interno della sua vettura. Cinque anni dopo la scomparsa di questa. Io ragazzi cerco ogni tanto di pensare a questa Cara e a immaginarsi anche in questo momento che si è trovata faccia a faccia con un individuo del genere un individuo che avrebbe potuto in qualsiasi momento farla fuori come ha fatto in altre tre occasioni precedenti e immaginatevi comunque il dolore che magari possono aver provato tutte queste famiglie ma anche in qualche modo il sollievo di essere stata colei che grazie alla sua fuga ha fatto sì che questo uomo non potesse più agire ancora. Cara è stata completamente ispirata da tutto quello che aveva passato in quel momento ed ha scelto quindi di unirsi alle forze dell'ordine nella speranza di poter acchiappare altri mostri come questo Ivans. In questo momento si è sposata e ha due bambini si sta prendendo una pausa dal suo lavoro come poliziotta per prendersi cura dei suoi figli. Ragazzi questo era il caso di oggi sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi e spero di vedervi nel prossimo video un saluto da Seba, ciao! Iscriviti al canale